Patch veloci 11.18 Per chi vuole entrare in rank ed ascoltarsi i bilanciamenti in Champions Select Le skin pentakill escono il 9 settembre alle 22 Rune modificate Predator più mungo in speed e meno tempo prima di arrivare a velocità massima Perché Rammus deve arrivare ai mondiali rotolando Per favore giocatelo, grazie Item baffati L'Hydra Titanica e Famelica non funzionano più sulle torri Permettendoti di split pushare in santa pace E meno male direi L'Umbra Glaive costa meno perché supporta l'etalità non se lo potevano permettere Che morti di fai, mamma mia non costa mica così tanto Champ nerfati Aphelios meno 2 a D perché almeno in lane un minimo deve soffrire Ash spamma meno ventagli di frecce perché sinceramente che palle laneare contro Ash Camille meno scudi per farle fare fatica in laning phase Sentirete spesso questa frase in questa patch note Jace dura meno la velocità quando cambi forma per renderlo più gancabile dai pro player Kalista voli di meno quando ti lancia per aria con la Suprema E il suo supporto lanciato almeno hai modo di rispondere un minimo Un minimo eh Lissin meno 2 a D perché basta Lissin in giungla Vi prego ragazzi a meno Un mondiale lasciatelo all'occidente Per favore Renekton lo stordimento dura di meno perché puoi nerfarlo cento volte Ma i pro player trovano sempre il modo di far funzionare Coccodrillone Non basterà nemmeno questo No non è vero questo è effettivamente un grosso nerf Talon nerfato per la mid lane in modo da evitare che sia troppo forte E lo buffano a caso in giungla per i dunk meme Ha ha XD Trash meno movement speed e meno danni dalla passiva della A in early game per renderlo un pochino più gestibile Trundle meno slow dal pilastro perché sinceramente vederlo supporto è un po' cringe Varus per un bannato competitivo lo nerfano su a D e velocità attacco della passiva in modo da renderlo meno Porco cazzo ti tiro tronchi d'albero e ti autoattacco a Mach 5 E più arciere di sto cazzo C'è baffati Draven se becchi la ulti su un bersaglio con meno vita a confronto con il numero di stack di Draven Draven si becca i soldi e la tua vita Tiè! Dottor Mundo invece di curarti in due mondi diversi Oral Suprema prima ti dà HP bonus e poi ti cura Così che le ferite gravi non lo fermano del tutto Fizz meno danni della ulti ma più coriaceo in lane e più danno dalla W Gangplank più HP e più HP per livello perché il pirata l'è messo un po' male eh ma giusto un pelo Jinx minore costo in mana dei razzi di Fishbones per renderla più forte in laning phase Giusto un pochino un pochino eh Kaisa meno cooldown sulla E perché ormai veniva surclassata da chiunque in competitivo Persino Vayner là che le rideva in faccia Karma più armor e piscuti di base per riportarla un minimo in auge Kogmo scala meglio col potere magico della sua E in modo che possiamo vederlo pulire un dati di minion Vomitandogli Lillia buff per la giungla belli tozzi e nerf per la top lane perché boncare la gente thirsty in top lane è abbastanza ingiusto Cioè siamo già frustrati che siamo in top lane almeno non boncarci perché siamo thirsty grazie Miss Fortune più danno della ulti per renderla più intrigante in ogni fase di games e becchi una wombo combo Forse Morgana meno cooldown dallo scudo per renderla più intrigante come supporto Chiana nerfata per la mid lane rimuovendo la combo E più Q nerfata il danno della E ma Hey le ridanno modo di giunglare perché non ci sono assassini in giungla in competitivo XD Tanto la solo Q chi se ne frega Rumble cerchiamo di riportarlo top lane ridanno la W con cooldown basso e meno velocità attacco in early Perché sicuramente rimuovere il danno sui mostri sarebbe troppo intelligente vero Riot? Singed applica ferite gravi da ogni fonte quando beve la sua pozione rendendolo un mostro in terra Seriamente cominciate a preoccuparvi Soraka rimuove le ferite gravi prima che la cura della Suprema arrivi Talia cercano di riportarle in auge come flex pick tra mid e giungla facilitandole la learning phase Divertitevi a essere lapidati a morte Twitch più AD della Suprema perché se prendi vantaggio meriti di essere più forte dei tuoi avversari Urgot buffano la Q l'unica spell che nessuno praticamente mai usa Tipo ok Ione se becchi più persone con la W ottieni più scudo E succedendo così di rado Beh sì aiuta ma ragazzi non è che lo rompe sta roba Calmatevi eh Yumi cooldown della passione ridotta per bitarla Slegarsi e morire come una polla da un grab a un controllo pesante No è effettivamente un grosso buff però Zed più danno sui mostri dalla passiva perché sì ok Zoe minor cooldown sulla E perché ha fatto un corso veloce per mandare più spesso la gente a nanna coi pesci E questo è quanto per questa patch Good luck in esports raga